Leggere di Steve McCurry alle Gallerie Stensi di Modena è una mostra tematica dedicata al mondo della lettura, uno Steve McCurry molto diverso dalle immagini che siamo abituati a conoscere, non sono dei ritratti occhi negli occhi, ma è più uno Steve che spia una situazione di quasi rapimento tra il soggetto e la parola scritta, quindi uno Steve McCurry che non disturba, che osserva, uno Steve McCurry lettore e quindi amante dei libri, quindi rispettoso di tutto quello che è il mondo dei libri. Il tema che lui vuole raccontare in questa mostra è che attraverso il libro si può raggiungere la libertà, che è molto importante avere la possibilità di leggere quindi l'alfabetizzazione anche nei luoghi più remoti della terra, ci sono molte immagini di scuole che si trovano tra queste fotografie, c'è poi una bellissima selezione di testi fatta da Cotroneo per fare un po' da contrapunto e dei video in cui Steve racconta la sua maniera di fotografare.